Si scopre che l'associazione della duchessa del Sussex con la famiglia reale risale a molto più indietro rispetto alla prima volta che ha incontrato il principe Harry in realtà abbraccia oltre 160 anni Meghan Markle e il principe Harry si sono incontrati per la prima volta e hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, ma si scopre che il suo legame con la famiglia reale risale a molto tempo fa. E stiamo parlando al di fuori della sua vita, più di 160 anni per essere precisi. I parenti della duchessa del Sussex hanno precedentemente affermato che la sua bis 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 nonna, Mary Bird, lavorava al castello di Windsor come domestica, ma ora è emerso che in realtà era una cuoca. Secondo un database del personale della casa reale, c'era un lavoratore di nome M. Bird, che apparve nel libro dei pagamenti settimanali del castello di Windsor nel 1856. Punto. Era più o meno nello stesso periodo in cui Mary sarebbe stata nel Regno Unito, riferisce T-Express. La bis 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 nonna di Meghan in seguito sposò Thomas Bird, un calzolaio irlandese che prestò servizio come ufficiale nell'esercito britannico. La sua famiglia la rinnegò per questo e così la coppia decise di trasferirsi a Malta con l'esercito, dove fondarono una famiglia nel 1862. Hanno avuto due figli insieme, inclusa la bis bis nonna di Meghan, che si chiamava anche Mary. La famiglia ha continuato a trascorrere i successivi 20 anni a Malta, ma dopo la morte del marito, Mary e i bambini sono emigrati in Canada, prima di trasferirsi a Meredith e infine stabilirsi nel New Hampshire. Si pensa che Mary sia collegata a Meghan dalla parte di padre della famiglia. Mentre il ruolo di Mary al castello era in grande contrasto con lo status reale di Meghan. Sembra che i due parenti condividano entrambi la passione per la cucina. La duchessa del Sussex è stata fotografata mentre cucinava e cucinava diverse volte dal suo matrimonio reale. Durante il suo tour in Australia e Nuova Zelanda, ha preparato una pagnotta di pane alla banana per gli ospiti di un picnic e ha anche lavorato a un libro di cucina con la Hub Community Kitchen per raccogliere fondi per le persone colpite dalla tragedia della Grenfell Tower.